Ben trovati e ben trovati dalla redazione di Muoversi in Toscana, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Per la cantieristica ricordiamo che in A1 fino alle 18 del 26 novembre è chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Aglio in direzione Firenze. In alternativa si consiglia di percorrere la direttissima e uscire a Badia. In A11 inoltre per lavori è chiuso fino alle 18 di venerdì 27 novembre lo svincolo di Chiesino-Ozzanese in entrata verso Pisa. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Alto Pascio. Siamo al traffico ferroviario, registriamo difficoltà di circolazione dovute a particolari condizioni meteo sulla linea Chiusi-Siena. E un guasto temporaneo agli impianti di circolazione tra San Giovanni Valdarno e Figline Valdarno, tutti i treni interessati sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze e Alvia da oggi, lavori per la realizzazione di un varco ZTL in Lungarno-Corsini. Sono previsti i provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Infia è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!